Ritorna a Macerati e dintorni la manifestazione Condon Cafè, ormai giunta alla sua quinta edizione. È forse la pericinale tra iniziative legate al primo dicembre, ovvero la giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS. Condon Cafè, che grazie al Dipartimento di Pendenze Patologiche Area Vasta 3, al suo team Stammi Bene, al Comune e all'Università di Macerata, ha collaborato e coinvolto, come negli anni precedenti, le associazioni e il territorio, che sono la base e il motore di iniziative di questo genere. Se si va in uno dei bar, dei 58 bar che sono aumentati, l'anno scorso erano 52, si ha un profilattico insieme al caffè. Un atto normale di tutti i giorni, prendere un caffè vicino a un profilattico. Questo chiaramente è sicuramente una provocazione che noi non vogliamo fare però nei confronti delle persone, rispettando le idee di tutti. Però noi vogliamo far riflettere su questo problema dell'HV perché le trasmissioni sono diminuite ma nel 2013 si sono ammalate di HV nel mondo 2 milioni e 100 mila persone, 240 mila bambini. La ricerca ha fatto passi da gigante anche per quanto riguarda i farmaci che riescono a stabilizzare la malattia, ma che comunque non riescono a trattare tutta la popolazione affetta da essa. Per questo bisogna fare prevenzione. Anche in Italia, come tendenza generale, le trasmissioni di HIV non sono diminuite ma sono cambiati i target. Se una volta nel 1985 erano i tossicodipendenti, esseri più rappresentanti nelle trasmissioni di HIV, adesso sono gli heterosessuali e gli omosessuali, quindi tocca un po' a tutti questa situazione. Condo Caffè, che per il suo quinto anno ha preparato un'edizione speciale, più ampia nel tempo e che coinvolgerà anche momenti musicali, con tanti gruppi provenienti da tutta la regione. Andremo su cinque giorni perché ci sarà il 27 giovedì ore 21 e 30 a Piazza Vittorio Veneto a Macerate, cioè di fronte al Maracuia, un anteprima concerto tutta speciale dedicata al quinto anno e con un caffè. Un tributo a Freddie Mercury, naturalmente sempre nello spirito non commemorativo triste ma assolutamente entusiastico, vuole aprire alla grande e fare soprattutto breccia sui ragazzi. Il giovedì universitario è il giovedì tipico in cui tutti i ragazzi escono, universitari e non solo, quindi faremo festa grazie a Jan Mozzorecchia, che è un grande fan dei Queen, oltre che uno splendido chitarrista, e King's Head, gruppo tributo di Ancona. Insieme a loro la stanza di vetro e Metal Milizia. E poi, dicevo, un'iniziativa che va su cinque giornate, nel senso che dal 28 novembre fino al primo dicembre, tutti i giorni nei bar aderenti che sono elencati su www.stamibene.info, Dicevo, ci sarà la possibilità ogni volta che si prende un caffè o camomilla o tè o qualunque altra bevanda, di avere un condomino maggio. Diciamo che un po' sarà sorpresa, perché tanti arriveranno e non lo sapranno, per molti altri invece spero che sarà un'iniziativa che già conoscono e che sempre di più apprezzano.